30.000 mi piace diteci qua sotto nei commenti chi è stato più forte tra i figli OI BABÀ OI BABÀ Parto prima da te Ciro, sei fiero di tuo figlio? Certo Quanto da 1 a 10? Perché? Perché è un bambino Lo ritiri un bravo papà tu Adriano? Assolutamente, è una mia fonte di ispirazione Secondo voi chi vincerà oggi? I papà e i figli? Giovani, i giovani Ma senza speranza Ciao Patrizio, come lo descriveresti tuo figlio? Il mio orgoglio Antonio, tu cosa ne pensi di tuo padre? E' tutto per me, c'è una fonte di ispirazione, di comportamento Però non c'è da perdere Ho fritto un po' con lui? No, oggi in Giappone no Esperenze, capite bianche, esperenze Claudio, cosa ne pensi dei due ragazzi? Sicuramente sono i miei orgogli Sono la mia vita E voi, Fiuso e Mirko, cosa ne pensate di vostro padre? E' un grande calciatore Particolare, è particolare E' particolare ma è un grande E' un grande, è sempre un grande l'esempio E' un esempio, si Ma quindi oggi chi vincerà, lui o lui? Il grande calciatore chi è? Sono io Non ci allarghiamo qua, mi sa che oggi vince lui Io con i piedi ho preso la mamma Ma per forza, per forza Cagava e piccola di mamma Prefiro Bene ragazzi, carichiamo ormai da più schede Oggi ragazzi Siamo qui con un video incredibile Perché oggi ragazzi siamo Sul campo da calcio Con ospiti più che speciali I nostri ospiti preferiti Che ci hanno creato I nostri genitori Oggi ragazzi faremo una challenge Papà vs figli Vedremo quali sono i giocatori più forti Qual è la generazione migliore Qual è la generazione migliore di San Antonio Ci saranno vari challenge per decretare questo Vi lascio il loro Instagram in descrizione Andatele a seguire Qualche milf Qualche milf Se volete Mamma non è vero Ringraziamo il centro sportivo ASD2000 Per averci ospitato Grazie Questo video Trovate tutte le info in descrizione Adesso andiamo dentro Con le challenge Vai la prima sfida Eh La prima sfida è Prendere la traversa Crossbar challenge Sio Quando ne hai presi tutti i pali nella tua vita? Eh i pali di parecchio Pure con le ragazze Vuoi più i traversi vero? Quanto è più i traversi? Vai 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 I am Claudio Fusco Tu non puoi padre è finta Prendere la traversa Vai Spero 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 Cacciata Claudio 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 Ma mia Sega per noi C'è 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 Va bene va bene Dopo il padre risponde il figlio Datemi la palla Ragazzi noi veri uomini Avremo solo un tiro Non come loro Che ne hanno due Vai Una a zero Calma calma Ma io abbiamo il fotografo più bello di Napoli Ciro Fusco Lo prenderai? Aspetta Due ne faccio Cinco 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 Casi di parità ho vinto io Androni mi raccomando Androni mi raccomando Androni mi spieghi a papà Anroni mi spieghi a papà Che cosa? ma l'hai distratto il cuore è debole poi ci fanno il super jolly e poi dopo c'è il super jolly questa è la prima di tante mi chiamo parezzo fusco sono il papà di mister sono sempre il pippaiolo della famiglia quindi mio gioco è difensivistico scusatemi ci tento questo è il secondo dio ce la faccio ragazzi sono crispo mi conoscete già penso siamo uno noi uno e mezzo l'ora adesso cercherò di fare il sorpasso si profila la tragedia la tragedia ma i simon vai noaaaa la prima v savage grazie ci viene la notta e ti ho ни quanto coaggippi in più ci ho già entro in tacchissimo i gemmi ci ho già entro in Io passo la palla, ti dà la palla e tiro il po'. Quindi uno o due. Andiamo! Prima il mio mezzo punto è stato determinante. Adesso sarà un punto intero. Forse due, forse meno. Adria è tuo padre, ricorda tutti gli improveri che ti ha fatto tra le punizioni. Questi sono i figli, questi sono i figli. Secondo tiro. Stavolta non sbaglio, ho fatto l'esperienza. Mettelo con là! Su di la porta! Non protestate! Adria! Alla! Si vado a mano! Si vado a mano in bocca! E te la mi si dà la porca! Te la mi si dà la porca! No no! Eeeh! Cosa è ora? Cosa è ora? Guarda, 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 guarda! Sta piangendo! Mezzo punto! Sta piangendo! Mezzo punto! Mezzo punto! Tutto a posto! Come prima di potenza! Wow, di potenza! Dichiarate! Eh no! Eh no! 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 La sciarpa del Napoli è ovvia! Mirko, ci sei? Tu hai fatto la cosa? Vai, vai! 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 Bahia! And Tahli! antsli! Ah, Paolo! Oh! Mahia! Andre! Oh! Non lo faccio! Si! Il primo e l'identico non ha finito il compagniario! Secondo tentativo! Oh! Andree! Andree! In questa disciplina siamo un po' scarsi, mi aspetto qualcosa di più, onestamente, ma non voglio scaricare la colpa, però il giocatore era loro, io sono sempre stato messo a scampo. Aglio, mio padre ha cercato di corrompermi prima, questa volta non ci riuscirà. Vai a due! Bravo! Per ora siamo 1-0 per noi, Simo, metti un punto importante. E' Seba, e' Seba carai! Spara l'Uddio, pregando l'Uddio, come una finale del Coppa del Mundo. Non è gol, non è gol, non è gol! Ma che parato, non parato, vado a me, che parato! Mi importa una volta. Simone d'aggraziato, ma vengo io a tirare, e me, babbo. Attendo, babbo. Sì. 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 Ma non è merda! Ma non è merda. Ma non è gol, non è gol! Ma non è gol, non è gol, non è gol! Ma non è gol, non è gol, non è gol. Mi ha tirato un guapici in faccia! No, no, no! No, no, non la viola e ci dissociamo da questo atteggiamento! Premessa! Prima di lui, li facevo lo soppello. Facevo l'attaccante. Ma, zio, stoppa la palla! Faccio! Ah! 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 Via! 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 Vado via! secondo tentativo si almeno vuole pareggiare è morto 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 stiamo 1 a 1 io sarò determinante oppure no vedremo vai Mirko vai Mirko mannaccia ma se non è conto che siamo per essere umano io amo bello io amo bello io amo bello però una segnalata due traverse Mirko all'ultimo tiro se sbaglia finisce in pareggio se segna abbiamo vinto noi Mirko hai chiamato dai Mirko vittoria 1 a 1 palla a 5 palla a 5 palla a 5 palla a 5 obbligato Deus sono spottini mi ha smarcato mi ha smarcato adesso ce la giochiamo ci crediamo non è finito non è finito fino all'8-8 e mezzo abbiamo la bella e quindi come ci sfidiamo? a Riguri a 5 primo rigore Adri ora inizia la terza sfida e vinceremo noi vai 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 grazie 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 guarda come se la sistema simone ma è bastardo dai simone sono marci sono vecchi vai simone per il secondo per il secondo per il secondo si alla Giorginio alla Giorginio alla Giorginio alla Giorginio se pareggi 1 a 1 dai casi forte posso? vai vai Anto vai 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 ma inizio ma inizio dai dai Anto vai no vai vai hai asciutto la sedia non fa un press si uffi chiammi cosa ma è giuda uffi chiammi vincu 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 uffa 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 vincu vincu vado cerco di portare in vantaggio Vai Mirko vendicati! È la distrazione di vino, mi! Dai Mirko vendicati! Un cucchiaino da te! Un cucchiaino c'era! Un cucchiaino! Un cucchiaino! Sbaglia! 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 BABOI! VALA! 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 Stai a studiare la casa, stai sul tanzo! Il vino è perfetto! Perfetto! VALA! Devo segnare perché è molto importante! Addio! Vai Andri! Non ti far distraire! Siamo per te! Siamo capito! Piazza! 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 E cosa è la cosa? Il suo colo è la vita! Allora, non fai ne cucchiaino! Mucca per la vittoria! Ne cucchiaino! Ne cucchiaino! Ne cucchiaino! Le piazza! Allora, poi ce ne fuimmo proprio! Piazza! 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 Siamo noi, guardate la musica bella Si discarza, si discarza Quindi ragazzi questo video finisce qui Mi raccomando se volete altri video insieme ai papà Lasciate almeno 30.000 mi piace Almeno Hanno vinto loro La rivincita La rivincita Hanno vinto i senior Quindi ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace Mi raccomando iscrivetevi al canale Noi ci rivecchiamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao